Il nostro appuntamento settimanale del venerdì con Eurotrack Simulator 2. Il nostro appuntamento con il famosissimo Convoio. Oggi il nostro trasporto. Fabrizio D'Avuno sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille, buonasera e benvenuti a tutti e grazie per l'hosting. Dicevo, oggi il nostro carico sarà come sempre un elicottero. Fabrizio D'Av2 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille, benvenuti a tutti. Grazie per l'hosting. E come dicevo, partenza da Parigi in direzione Madrid. E oggi, come al nostro solito, trasporteremo un elicottero. Uno RGK 539 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille a tutti. Ben ritrovati a tutti quanti. Thank you, thank you, thank you. Allora, adesso andiamo avanti. Hi everyone, welcome to our rendezvous of the Wednesday and the Friday, sorry. Today, we will go on with our rendezvous of the with AeroTrux Simulator 2. Today, we will start our trip from Paris and the city destination city is Madrid. We will transport un helicotter. Allora, we will go on with AeroTrux Simulator 2. Today, we will do our trip from the airport. We will go on with AeroTrux Simulator 2. We will go on with AeroTrux Simulator 2. And the city destination is Madrid in Spain. Okay, let's go on with AeroTrux Simulator 2. We will go on with AeroTrux Simulator 2. As of catastrophically. In that city centre we will go on with AeroTrux Simulator 2. Let's go on with AeroTrux Simulator 2. Allora, let's move on with AeroTrux Simulator 2. As very well, we will see AeroTrux Simulator 2. And the area of Paris then in January, it is 22,00 , ! va bene ok e appunto andremo anche ad imparare a testare la nuova funzione del multiplayer di trackersmp. We will test as well the new feature by trackersmp. UsualonTest.Unive.Unive.Unive.Function. Allora parigi pari lisette poi qua mettiamo ok questa è la mappa quindi scorriamo dc e cerchiamo madrid eccola qua perfetto poi lisette mettiamo tradu poi mettiamo FLE e testiamo e vediamo un po se funziona selezioniamo l'elicottero so we will try to see if it works di elicottero eccolo qua rimorchio ribassato allora vediamo un po come funziona quindi mi dice no navigate to company ok quindi se io adesso perfetto so if you you don't need to do any more while you type the starting city the the expeditor you will from where you will take your your merchandise and see destination city and the same thing so so you will not need to use virtual expeditor this function will replace the app of virtual transport virtual transport virtual expeditor il est tout complet, il est tout complet cette fonction là vous n'aurez plus besoin d'utiliser Virtual Expeditor parce que cette fonction là, elle a les mêmes fonctions de Virtual Expeditor donc, pas de souci et donc, maintenant, mettons un peu de musique, un peu de sotofon dans le frattemps, on va à reboccar un peu le mezzo voilà carissimo Cirillo, merci mille pour être ici en live buona sera, et pour moi est un grand honore averti qui, in live anche tu, giochi ad Eurotrack? allora, nel TrackSMP hanno implementato una nuova funzione non so se tu hai mai usato Virtual Expeditor in passato cioè quell'applicazione che ti permette di creare dei viaggi personalizzati perfetto allora, ti faccio vedere in diretta come funziona noi adesso siamo su TrackSMP allora, si sblocca normalmente il quadro e poi si va qui Job Dispatcher vai qui e poi inserisci le varie informazioni quindi la città di partenza con la compagnia compagnia città di destinazione la compagnia scegli il tipo di carico e poi con questa funzione qui ti fa bypassare il fatto che devi ritornare nel programma fare ricaricare il salvataggio rapido e quindi si risparmia un po' di tempo quindi Navigate to Company Generate Job Offer io adesso già l'ho fatto e quando accenderai il camion noterai che hai già l'itinerario sul navigatore quindi non ti resterà altro che andarti a divertire insomma mi dici gentilmente se la live è fluida o eventualmente se ci sono dei blocchi ti ringrazio così mi faresti una gentilezza perfetto, quindi non c'è freezing ok perché ho aumentato la risoluzione l'ho messa a 7000 kbps è il massimo diciamo per il Full HD per avere un 60 fotogrammi al secondo fluido e sperando che sia anche abbastanza stabile quindi è tutto capparogero ottimo e quindi perfetto e quindi siccome io la settimana scorsa ho portato un altro gioco di venerdì e allora ho detto stasera porto il il convoio diciamo quello che si faceva e si ritornerà a fare anche durante il periodo invernale con gli altri amici della e anche i trasporti SRL e il gruppo l'angolo dei simulatori e insomma presto si ritornerà a fare la carovana e quindi per non interrompere diciamo così questa questa tradizione ad esclusione della settimana scorsa ho continuato il venerdì a quest'ora a fare lo streaming perché insomma era faceva anche delle buone visualizzazioni e quindi insomma per dare una mano pure ai amici negli altri canali poi quello che vedi in questo momento ad esempio i i neon blaze sul quadro dei comandi attorno al navigatore sono praticamente delle si chiamano internal mode sono praticamente delle mode estetiche che però puoi vedere soltanto tu quindi dal punto di vista diciamo della live cioè chiedo scusa di chi incrocia il tuo mezzo non noterà nulla di particolare cioè vedrà il mezzo normale e poi a breve quando prenderò il carico ti farò vedere alcune mod internal mod estetiche che ho utilizzato che sono quelle lì diciamo più carucce che non fanno calare i fotogrammi anche perché il multiplayer diciamo così superato un certo numero di slot di accessori poi ti chicca il camion quindi ti butta fuori per cui per cui qualora tu fossi interessato al internal modding basta andare su youtube e trovi il un un video dove ti spiegano tutto o se eventualmente sei interessato ti ti ah no invito al discord non lo posso fare io nei video di questo di questo canale che fa le internal mod trovi il link per il discord per cui tutte le internal mod le novità vai su questo discord te le guardi se ti piace eventualmente la scarichi altrimenti insomma ci hai dato un'occhiata così un altro po' di pazienza e ti faccio vedere un po' le varie internal mod che io ho messo sul camion ok 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 noi siamo arrivati tra due adesso prepariamo il carico però prima di far vedere il carico allora aspetta un secondo facciamo così prendiamo prima il carico va che è meglio che ho allora dovrebbe essere già pronto eccolo qua meglio spostarsi altrimenti poi giustamente si lamentano allora io prendo come al solito il rimorchio corto questo qui ha tre assi bleh perfetto dove che me l'ha messo eccolo qua ok il nostro bel elicottero dovrebbe farci guadagnare all'incirca centomila euro la questa è già un'interna mod la passeggera qui poi i neon all'interno qua il navigatore abbiamo detto il il tablet chiedo scusa fammi fare sta manovra così e ti faccio vedere anche la mod esterna allora facciamo un riepilogo mod estetiche questa vernice qui che quando si accende la luce il simbolo scania si illumina stessa cosa non so se si nota la scritta scania e e retroilluminata poi abbiamo la barra con i fari supplementari qui sotto i tre led per lato per le frecce poi abbiamo il cappellino questo qui il simbolo dello scania rotondo torniamo dentro abbiamo la scritta super sul volante poi il tablet la il neon e infine la passeggera qui anche io gioco con un vecchio logitech g27 lo possiedo ormai da dieci anni il 24 dicembre sono giusto giusto dieci anni di possesso devo dire la verità mi sono trovato bene ho trovato un ottimo rapporto qualità prezzo è l'unica cosa che ho fatto dopo otto anni però se consideri che io questo volante prima l'ho usato sulla ps3 con gran turismo sono state le molle dei pedali perché non avevano più quella forte pressione per staccare e quindi avevo l'acceleratore che mi rimaneva mi sfarfallava quindi ho acquistato delle molle per la pedaliera più rigide poi ho pulito i potenziometri pulizia ho tolto la polvere ho poi ho come dire ho smerigliato un pochettino i punti dove si collega la massa dei pedali che poi sarebbe il negativo per essere ulteriormente sicuro che il tutto funzionasse ad hoc e poi nel nel carter coprimolle ho messo il grasso poi stesso lavoro il volante l'ho aperto un po' di spray per i contatti sulla scheda del decoder l'encoder anzi una pulizia ho tolto un po' di polvere ho messo il grasso su le due superfici di plastica che scorriva una sull'altra e questo è quanto per cui mi sto trovando veramente bene ovviamente ho il cambio con diversi pulsanti e quindi diciamo che è un'ottima cosa il G29 è un ottimo volante ne ho sentito parlare bene è la versione per quella compatibile anche per console quindi ps4 ps5 la o xbox oltre quella pc a ps4 ok e guarda quando ho comprato la ps4 e avevo acquistato la la versione quella lì che ti dava già gran turismo sport all'inizio era un po' indeciso se acquistare un'altra pedaliera però poi ho detto per un gioco mi metto a comprare una pedaliera nuova e poi c'è un'altra davanti e allora ho preferito ehm tenere questa qui e stavo valutando di acquistare un'interfaccia per farla riconoscere alla console però diciamo per il momento sto utilizzando maggiormente il volante per eurotrack e quindi per il momento non non reputo importante un altro acquisto ps4 pro ps4 pro ma è la scheda video se non mi sbaglio che è un po' più potente io poi non sono esperto di console di gioco solo tipo che l'xbox ha la scheda grafica per invidia una cosa del genere e quindi ma su ps4 se per caso se si può mettere un altro harddisk perché non mi ricordo se è ps4 o ps5 mi pare avevo sentito che sony diciamo così o playstation la playstation ci voleva per forza il suo harddisk tu sei qualcosa a tal proposito perché sta avvenendo un po' di voglia eventualmente di espandere anche se comunque ho su ps4 ho un harddisk da un terabyte meccanico però volevo provare a metterne uno ssd ah ok quindi non c'è bisogno perchè ora non ricordo perchè tu sai che sul web girano tante tante voci che a volte vengono messe in mezzo anche per screditare o svalutare o determinate cose e quindi siccome avevo letto da qualche parte che non tutti gli harddisk erano riconosciuti allora è per questo che ho chiesto sai qual è il problema? è che io quando devo assemblare un pc ho la scheda tecnica vado sul sito internet del produttore della scheda madre mi vado a vedere tutte le periferiche compatibili al 100% e mi faccio un computer stabile su ps4 però non so o e perché non ho guardato bene però mi pare che il produttore non specifica non vado a specificare il tipo di harddisk compatibile e questo è un problema perché se io voglio prendere un harddisk io per esempio so che ci sono tanti harddisk buoni dalla silicon power pare che si chiama una cosa del genere per arrivare poi a samsung che sono quelli che nell'ultimo periodo sto utilizzando e sono molto veloci eh ma quelli brandizzati sony penso che un terabyte ssd lo faranno pagare eh lira di di uri perchè poi tu vai a pagare anche il marchio eh anche perchè pure per mettere mettere qualcosa che sai che è molto buono perchè io con i samsung la velocità dichiarata dal produttore e la velocità di scrittura e lettura ehm su pc ho visto che si avvicinano di tantissimo uno scarto di 30 megabit al secondo ma io da lì ho preso ho preso i miei dischi ssd della samsung però devo dare un'occhiata perchè è una cosa che vorrei fare anche perchè almeno quando accendo la console anche se alla fine sulla console c'ho solo tre giochi c'ho brand turismo poi c'ho moto ride come si chiama ride 2 ride 3 il gioco di moda a parte quello non c'ho più niente però sai quando scarichi il sistema operativo l'aggiornamento sulle ssd diciamo che si va a ridurre il tempo di installazione di caricamento eh caro mio bella la ps4 soprattutto la pro solo che poi hanno fatto l'uscita della ps5 qua è incredibile come ogni anno giustamente perchè il mercato va rinnovato eh vengono fuori ed escono fuori nuovi modelli eh di qualsiasi cosa in generale roba che magari dopo sei mesi svaluta quasi dalla metà del costo e perciò io sono più propenso a ad espandere a livello hardware qualsiasi cosa che sia un pc piuttosto che una console di gioco eh in questo caso una console di gioco insomma che costa pure quello che costa e quindi di conseguenza bisogna oculare le spese che costi chiare l'uno qua eh e comunque allora il mio gioco preferito su ps playstation è beh l'ho detto già gran turismo il tuo quale sì il pc lo puoi potenziare puoi cambiare tante cose purché siano ovviamente nel mio caso purché siano 100% compatibili con la scheda mare altrimenti scarto pensa che vado a vedermi anche il chipset delle ram se sono compatibili proprio per farti capire che sono molto eh preciso su queste cose qua e non a caso diciamo che è dal 96 che per passione assemble pc e il mio ovviamente l'ho assemblato io è l'ultima macchina assemblata a un mio carissimo amico una macchina da 1200 euro gli ho fatto una postazione che gli permettesse di fare video eh insomma fare un po' di tutto e gli ho preso un monitor fotografico quello che è costato di più però il monitor è quello che in teoria si cambia di meno e se non è di buona qualità gli occhi si fanno friggere per cui io ho preso lo stesso monitor mio è un BenQ un 27 pollici fotografico ci gioco mi fa 60 fotogrammi ora l'ho overclockato a 70 e mi va una bellezza a 7 corsa a 7 corsa a 7 corsa eh bello difficilotto bello difficile bello difficile Formula 1 21 project car c'è Ferrobus che porta eh mi pare pure lui che no a 7 corsa come si chiama quel gioco sembra di di gara solo che ma mi sfugge il nome comunque pure lui gioca eh a proposito di di simulazione c'è chi dice che è assetto corsa e poi c'è chi dice che il simulatore di guida è anche Gran Turismo solo che la cosa è è un po' eh particolare da esaminare perché poi chi è fan di una certa cosa è di un certo tipo di programma quindi il gioco dice quello è migliore tu che hai giocato pensa anche a Gran Turismo no? com'è Gran Turismo rispetto ad assetto corsa questa versione qua perché io con Gran Turismo la vecchia versione 5 5 parane il 6 al 5 eh avendo il feedback col volante mi sembrava abbastanza realistico poi una volta ho fatto la mano insomma era tutto uno show e tu invece secondo te visto che comunque preferisci assetto corsa e beh sì perché ho visto assetto corsa ho visto molti streamer giocarci e è bello è bello diciamo da vedere con chi lo sa usare però chi come me diciamo non è proprio portatissimo per questi tipi di giochi insomma ah ecco quindi tu dici che Gran Turismo quindi non rispecchia la realtà al 100% capito? e assetto corsa l'ho visto è è ben fatto e ci vuole ci vuole l'art come si dice dalle mie parti light com'è che si dice in Sicilia se non ricordo male sei siciliano giusto Cirillo Cirillo ah ah hai ragione sei un conterraneo sei il conterraneo di Midicaccio un grande streamer bravissimo pure lui che saluti il grande Midicaccio lo sai lo seguo lo seguo lo seguo su Youtube su su Twitch insieme a Nick a Robymel 81 e Nora24 facciamo un po' di pubblicità seguite pure i canali loro e seguite anche il canale di Cirillo74 facciamo un po' di pubblicità che non fa mai male anzi fa più che bene sponsorizzare gli altri canali anche perché qua io lo faccio d'abitudine e quindi mi fa piacere interno mod ora faccio un po' di discorso agli amici in lingua inglese e francese quindi stavo parlando con il mio amico Cirillo 1974 su il miglior simulatore per tramite Gran Turismo e Assetto Corsa Competizione quindi dice che Assetto Corsa Competizione è molto 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 simile alla vita reale quindi è molto realistico e simulatore 100% e è che parla di il che è 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 tra Gran Turismo e questa corsa competizione. Il dice che il ha trovato e essayato tutti i due giù e il dice che a questa corsa competizione è molto più realista che Gran Turismo. Similazione al 100% E' finito. Io ho la fortuna di avere dei follower del canale che non parlano in italiano e quindi per non farli sentire messi da parte allora ogni tanto durante le mie live mi ricordo di loro e caro Cirillo cerco di comunicare anche con loro che la maggior parte di queste persone non sempre sono in live ma spesso seguono il canale e seguono le repliche del canale e quindi... Fernbus 08 ha appena brindato con 10 bits. Grazie mille. Chioccio la message. Grazie il Presidentissimo Fernbus ci ha onorato della sua presenza. Grazie per il supporto carissimo. grazie per questi bitterini. A noi Fernbus... A proposito Fernbus c'è... già l'hai visto? C'è Cirillo. Mi è venuto a fare un po' di compagnia stasera. Sono in viaggio da Parigi in direzione Madrid o Madrid e in questo momento sto trasportando un elicottero e dovrebbe fruttarmi all'incirca 100.000 e passa euro. E' mitico Fernbus. Devi sapere Cirillo che ci sono alcuni streamer che sono portafortuna fra cui ci sta pure il mitico Fernbus. E allora quando devo fare una live per scaramanzia devo passare anche se non posso fermarmi per seguire tutta la live li vado a salutare. E quindi oltre a fare lo faccio da premettere per la stima per la persona e per lo streamer e poi dopo anche per diciamo così un fatto così goleardico a scaramanzia diciamo così e quindi molto spesso vado da Fernbus e al termine poi delle lunghe live mi vado a fare due... due... ah... due... 40 risate belle grasse grasse soprattutto quando fa le live su i giochi horror che l'altra sera mi ha fatto morire con Resident Evil oh cacchio dove uscire e mi ha fatto morire ovviamente poi insomma tutti gli amici streamer anche 9g0 non so se li conosci la zappa storta e il mitico professor Jason Farm insomma quando faccio la pubblicità la faccio a tutti gli amici streamer e... e passo... quando posso passo nelle loro live mi fermo quei 5 minuti 10 minuti quello che sia io mi fermo là mi faccio due risate due chiacchiere e poi vado a fare la carica batteria anzi carica... carica batteria carica pupille ecco ah ecco un'altra internal mod che ho messo è questa questa barra qui che vedi in alto quella dei fari ecco mi ero dimenticato e poi i led che si trovano attorno alla cornice del telai aspetta che ritorno un'altra volta questi led qui è un altro internal mod mi ero scordato oltre ai due led qui sotto che tu vedi dove ci sono le pedane e insomma queste sono io ti consiglio di metterne... ah perfetto ti consiglio di mettere giusto quelle che ti servono come ho fatto io magari all'interno della cabina che tu durante la guida le vedi e poi che altro sullo sterzo insomma queste cose qua le consiglio a te come le ho consigliate anche un altro amico del canale che è passato hai visto questo camion tutto bello agglindato e mi ha chiesto delle informazioni come a te insomma io ho dato le informazioni queste qui quindi internal mod e poi cerchi il link per entrare nel discord a disposizione guarda tu ci stai su facebook ah ok perché se avevi un account facebook ci sono due gruppi l'angolo dei simulatori ed anche i trasporti srl che la si organizzano i convoi però eventualmente ti terrò presente quando inizieranno i convoi solitamente si dovrebbero fare di venerdì cercherò di ricordarmi di fartelo presente tu se vuoi eventualmente basta che vai sulla pagina sulle informazioni del canale c'è il link per raggiungerti al server discord e lì magari ecco puoi metterti lì e quando c'è qualcosa insomma farò un po' più di verrò lì sul server nel coso del discord e vengo ad aggiornarti per il momento diciamo che ancora un po' così un punto interrogativo però credo che fra qualche fra qualche tempo ritorneremo a fare questa lunga caroana esatto grande fernobus zio fernobus è un mito è un mito su tutto fernobus qual'è quel gioco di simulazione di... grazie grazie come si chiama il gioco di simulazione che tu mi fai divertire là quello con la guida che adesso mi sfugge il nome grazie va a breve il bot ti dovrebbe dare il benvenuto bus simulator quella lì della macchina là quella lì che... come si chiama? bus simulator mamma mia Cirillo tu te lo devi vedere quando fernobus va su... forse o lì sembra quando va su bus simulator ma fa morire dalle risate specialmente quando fa il controllore l'avevi visto? quando fa controllo i biglietti e pizzica qualcuno senza i biglietti fa morire eh ma quando non li trova e comunque e a proposito bravo ho visto bus simulator 21 l'ho visto in un gameplay di Hicke che risaluto e ho visto che hanno implementato il motore diciamo di gioco è bello e soprattutto hanno inserito anche un po' di cose realistiche ad esempio il diversamente abile che deve accedere al al bus queste cose qua fatto veramente bene fatto veramente bene mi è piaciuto poi Nick come fernobus ehm sono bravi io sono una schiappa sugli stream però loro ti fanno accanì e poi sono bravi a farti capire anche il modo come devi giocare per farlo a meglio un po' come il gran maestro jason farm con farming non so se lo conosci ma lui è un mostro su farming qualsiasi cosa qualsiasi dubbio si mette lì con la santa pazienza e te la spiega te l'illustra bene ahahah fernobus spero che almeno queste siano lacrime di gioia mi fa piacere comunque insomma che apprezzate le mie osservazioni vuol dire che la mia parola ha un peso ha un gran peso ma che l'impatto che ha eh è è un qualcosa di buono ah gas station gas station è interessante però per esempio sto insieme all'amico la zappa storta sto è chop stiamo stiamo facendo delle live con ranch simulator e e ci stiamo spassando ci stiamo divertendo è stata un'improvvisazione sta cosa qui è partita tutta una domenica sera mentre loro stavano in live e io dissi ragà ma per per fare una battuta dissi ragà ma vi serve una mano lì al ranch e la zappa storta disse guarda fai così dimmi il tuo nick che ti aggiungo su 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 steam e facciamo facciamo un po' di di casino eh diciamo così ci divertiamo un pochettino e e ho fatto due live insieme a loro ho avuto onore e piacere di essere ospitato nella live nella zappa storta così come è sempre onore e piacere chiunque ospita la mia live o fa tipo un come si dice il l'hosting e mi mi ospitano nel loro canale per me è sempre una grandissima grandissimo onore bui cirillo grazie ancora per essere passato in live e rinnovo l'invito agli amici che stanno guardando questo video qui su twitch e su youtube in differita passate nel canale di cirillo 1974 lasciate un bel follow e sostenete il canale so friends please i want to ehm to see you if you want to ehm pass in to my friend cirillo 1974 channel leave a follow i will agree so much for les amis qui regardent ce video la je vous invite a passer dans le canal de mon ami cirillo 1974 et laisser un follow qui c'est c'est gratuit vous allez trouver les liens de son canal dans l'adresse description di video ensemble avec les liens de mes canales social media un canal pour acheter le jeu a prix réduit et retorax simulator 2 discounted you will find in description of this of the video a few links one is about my friend cirillo 1974 a few and you will find my social media links and if you want to buy the aero truck simulator 2 discounted you will find a link as well grazie cirillo ancora per essere passato non so se sei ancora in live ah grazie onore e piacere e ti dedico una bella strombazzata buona serata e poi quando starai live verrò a tenerti compagnia ciao buona serata e grazie ancora per i messaggi mi sembra che siamo arrivati in spagna si queste caselli spagnoli ottimo noi siamo prodotti in spagna quasi quasi andate a fare il pieno grazie buona serata anche a te buona carica pupille a proposito io qua guarda devo fare una foto qua però eh devo mettermi un po' più avanti ok ok allora come al nostro solito vediamo un po' se riusciamo a fare la foto di copertina allora così un po' di saturazione ok poi poi sfogatura allora così no piano di messa a fuoco ecco qua perfetto il maestro Fernbus è presente e noi proseguiamo ci sei maestro Fernbus? e tico 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 tago e adesso facciamo un po' di silenzio rilassiamoci perché siamo quasi al termine del nostro viaggio now we have to relax because we are at the latest part of our trip e and 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 we and 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 Grazie. Tico 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 t I gotto I gotto I gotto Yes Ebbene sì, non so quanto manca, ma siamo già ad un altro casello autostradale. La Spagna è un po' come la Francia, noto che ha molti caselli, fanno molte tratte più brevi, 40 euro di pedaggio, non male. Quindi sto rilassando che la Spagna ha molti punti, potremmo trovare i punti, come la francesca in Francia. Potremmo trovare alcuni punti, punti di pagina. Andiamo a... Grazie ancora a tutti coloro... ...che stanno sostenendo il canale attraverso il loro follow, i messaggi. E un grazie particolare a coloro che sostengono il canale con i beat e con le sub. Grazie mille a tutti. Grazie mille a tutti. Grazie mille a tutti. Grazie mille a tutti, per seguire i bisogni, per la messaggi. Per apoyare i bisogni e sub. Grazie mille, grazie... Grazie super le canal parmi le bits et le sub merci beaucoup I am scouting exploring the service areas because I didn't done before so now we'll complete the map trying to scout the hundred percent of the map E qui in Spagna a quanto pare c'è un po' un calo di fotogrammi sperando che in live non ci siano cali di fotogrammi particolari la mappa della Spagna è sempre stata un po' pesante e qui si si adesso la prossima devo uscire ok beh qui è chiusa l'uscita ok ma questa qui dobbiamo uscire ok 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 Ehm... bene sì... Dovremmo essere... ...Madrid, ecco qua, Madrid. Questa parte della mappa è sempre molto... ...particolarmente pesante per il mio hardware. Quindi una parte della mappa è abbastanza pesante per il mio hardware PC. ... 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 bring the wrong way the wrong route what it is important that we will reach our destination we will we should be near madrid madrid for madrid we should be in the parages of madrid close to madrid where we are already arrived at madrid madrid central ok we should have arrived at madrid in this moment maybe we are we are arrived to madrid we should have arrived at madrid madrid franzisco il comandante hola hola ah ragazzi è un bel po di tempo che non si sente più franzisco il comandante 30 papa giuliette 0 5 in radio su 27 triplo 5 30 30 papa giuliette 0 5 it's um i was using and i am using an international alphabet as uh no no as the radio alphabet it almost use it while doing radio communication on dx dx it mean in a long distance communication a long distance communication a long distance communication che sarà un 30PG05 in l'alphabet international e il è molto utilizzato per i radio amateurs o le comunicazione radio il è molto utilizzato per parlare quando facciamo le DIAX che sono le comunicazione radio a lunghe distanze e l'utilizzo per l'appellare l'Être utilizzato l'alphabet international che si è ALFA, BRAVO, CHARLIE, DELTA, eccetera, eccetera e qua, ok abbiamo fatto un bel viaggetto abbiamo anche imparato ad usare la nuova feature featuring della di Trunkers MP che ci permette di andare ad impostare un viaggio personalizzato quello che in effetti si faceva una volta con Virtual Expeditors adesso viene effettuato direttamente dall'applicazione dai multiplayer di Trunkers MP abbiamo imparato che abbiamo imparato come usare il programmatore per fare un viaggio custom per fare un viaggio per fare e per fare e dei lavori, dei lavori e dei trasporti personalizzati ... ... Anche questa live è giunto al termine Come sempre io vi ringrazio di essere stati qui con me, di avermi fatto compagnia Vi ricordo il prossimo appuntamento per la settimana prossima E' venerdì Nella descrizione del video troverete i link per acquistare il gioco scontato E il link dei miei canali social Il video è disponibile e sarà disponibile su youtube domenica Colgo anche l'occasione per ringraziare di nuovo tutti coloro che supportano questo canale Iscrivendosi Quindi lasciando un follow A coloro che passano a salutarmi Lasciare un messaggio sia Quando suono dal vivo E quando la programmazione è in replica Ringrazio in particolar modo Tutti coloro che sostengono questo canale Con i bit E con le sub E con Amazon Prime E collegando Amazon Prime E' possibile E' possibile creare il Prime Gaming E supportare questo canale O supportare i canali gratuitamente Grazie Grazie atur Se siete interessato a comprare questo game discounted, nella descrizione dei video troverete un po' link troverete il link per comprare il game discounted e un paio di link che sono i miei canali social media I want to thanks to thank to say thank you so much who leave a follow for this channel, who leave a message, who follow this channel who support this channel using the bits and doing a sub If you want to support this channel, you can use your Amazon Prime for Amazon Prime Gaming So you will support this channel for free Thank you so much You will find this video on YouTube on Sunday As well you will find all the links I said If you are interested to purchase this game You will find the link in the description I will find the link in the description of the video Which are the link to purchase the game A pre-reduit And the link to follow my social media I will find the links in the video You will find the link in the description of the video There is an amazing link in the description of the video Thank you And to all the community who have decided to support this channel For those who follow the channel And to all the community value they follow the video che mi lasciano le messaggio durante i directi e durante i replicati ma io voglio dire grazie particolare a ciò che supporte il canale permi le bits e permi le sub e a propos le sub si vous avez un compte amazon vous pouvez un relier votre amazon prime amazon prime que c'est gratuit et vous allez supporter le canal gratuitement merci pour votre attention thank you so much for your attention grazie mille a tutti per la vostra attenzione e ci vediamo venerdì prossimo bye bye stato buono ciao ciao applausi 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 l'onestà Grazie a tutti